ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 15 ottobre 2022 leggeremo insieme i giornali come tutte le mattine il corriere adriatico il resto del carlino per quanto riguarda le pagine locali e vedremo anche le previsioni del tempo e cominciamo subito con il santo del giorno vediamo che oggi si festeggia un grande santo tutti i santi sono grandi ovviamente ma ci sono quelli che hanno più presa nella consapevolezza appunto dei fedeli e una di questa è santa teresa d'avila santa teresa d'avila è una santa spagnola una carmelitana una suora carmelitana visse nel sedicesimo secolo insieme a san giovanni della croce fu una delle più grandi mistiche del suo tempo durante la sua esistenza andò più volte in estasi bellissima a proposito delle estasi la scultura che gian lorenzo bernini fece e che ora si trova nella chiesa di santa maria in trastevere a roma una scultura che ritrae appunto santa teresa in estasi colpita da un dardo di un angelo che le trafigge il cuore ma è una sensazione di bellezza di somma bellezza e non certo di dolore comunque il dolore non fu estraneo nella vita di santa teresa che ella accettò come un supremo sacrificio d'amore per gesù vediamo anche le previsioni del tempo ecco questa era l'immagine che abbiamo visto il volto proprio del bernini e ritratto di santa teresa vediamo il tempo il tempo oggi migliora sulle marche vediamo che una fase anticiclonica è subentrata alla situazione dei giorni scorsi un tempo stabile e asciutto cielo ampiamente sereno o al poco più poco nuvoloso da qualche parte ma ovviamente sono nubi passeggere che non danno fastidio le temperature massime si aggireranno sui 22 23 gradi le minime sulle sui 14 gradi i venti ispireranno da una direzione di sud est nel zona costiera nell'interno invece da ovest sud ovest il mare è mosso e le temperature sono in calo dicono sono sempre in calo ma in realtà rimangono sempre stabili e questo è bene perché insomma quest'autunno è mite a parte gli sbalzi tra pioggia e cielo sereno e vediamo che cosa ci propone invece la regia oggi per una immagine del territorio ebbene si fanno piazza 20 settembre mercato oggi è sabato il mercato è pronto le bancarelle sono state attrezzate le luci sono ancora accese perché la luminosità non c'è ancora non ha risolto il sole non c'è l'alba abbiamo detto che l'alba sorge alle 7 e 22 e tramonterà invece il sole alle 18 e 26 quindi abbiamo ancora qualche minuto di buio ma diciamo di albore non è proprio buio ovviamente l'alba è prossima comunque questa è la piazza di fano una piazza che tra poco sarà molto viva e piena di gente apriamo oggi i giornali per quanto riguarda lo sport vediamo come le squadre del calcio si preparano ad affrontare le rispettive squadre vediamo il titolo che appare sul resto del carlino per quanto riguarda la vis c'è di fronte un rimini scaltro e cinico serve una gran gara dice il carlino sassarini romagnoli con gente forte di esperienza veri mestieranti ho visto i ragazzi allenarsi con la giusta gioia chiedo 100 minuti importanti e poi si rievoca un po le partite passate quel derby deciso dal guerriero mosconi una partita di 30 anni fa vinta dalla vis contro i remini per 2 a 0 guai avere paura coraggio e determinazione fanno la differenza in sfide del genere le mie era un messaggio rivolto ai giovani e vediamo anche il fano calcio mercato fermo e zanni nel motore ebbene la società prende tempo in merito a eventuali rinforzi intanto i granata recuperano dall'infortunio il centrocampista per vasto vasto è la prossima avversaria che incontreranno i granata il centrocampista appunto zanni e soprattutto bisogna vedere il recupero degli infortunati perché sia nella vis che nell'alma ci sono stati molti giocatori che hanno riportato conseguenze piuttosto serie e quindi sono infortunati durante le ultime gare e vediamo anche i settori dell'eccellenza e della promozione per quanto riguarda l'eccellenza il resto del carlino ci propone l'atletico azzurra colli e fossombrone alle 15 30 poi per quanto riguarda la sesta giornata invece di promozione c'è urbani a portuali calcio ancona alle ore 15 un anticipo di oggi e poi altre partite osimo stazione ferminagnese sempre alle 15 cagliese gabice gradara cantiano ore 15 santorso barbara ore 15 villa san martino valfoglia alle ore 15 san costanzo mole valesina sempre alle 3 del pomeriggio e a questo punto invece diamo un'occhiata alle notizie di cronaca spostiamo il giornale con lo sport e apriamo il resto del carlino per quanto riguarda l'articolo di apertura sulla pagina di fano e vediamo che l'argomento è quello di un dibattito che c'è stato in consiglio comunale nella sera di giovedì scorso oltre 100 bimbi in lista d'attesa per il nido c'è stata una interrogazione che fratelli d'italia con lucia tarsi ha posto alla giunta una interrogazione un po datata ma che con i dati che ha rivelato l'assessore ai servizi educativi samuele mascarin è stata molto molto aggiornata ebbene mascarin ha detto che al momento ci sono 102 bimbi in lista d'attesa erano di più nel luglio scorso quando è stata fatta la interrogazione ma poi a causa dei ritiri e dalle scelte diverse fatte dai genitori la lista è stata un po ridotta e quindi e ora ci sono soltanto 102 comunque per quanto riguarda gli asili nido l'amministrazione comunale non riesce al momento a rispondere a tutte le domande che sono state inoltrate dai genitori cosa diversa invece è per le scuole materne dove i posti avanzano ci sono 24 posti che ancora sono liberi comunque ci sono anche dei provvedimenti che l'amministrazione comunale sta prendendo per recuperare insomma un po' questo handicap ci sono due nuove sezioni che stanno per essi progettate che dovrebbero essere realizzate sia a bellocchi che nella zona di via colonna e quindi si cerca un po' di rimediare perché è importante questo servizio è importante soprattutto per i giovani genitori i cui genitori le cui coppie lavorano entrambi dunque abbiamo una situazione di reddito familiare che deve essere salvaguardata e se c'è la possibilità di mettere il bambino nell'asilo nido ai genitori possono andare a lavorare la famiglia continua un dignitoso trend di vita un dignitoso livello di vita e quindi si cerca di rimediare questo handicap vediamo le altre notizie che appaiono oggi sul resto del carlino tutto il sapore del made in fano dalle vongole ai formaggi sfilano le eccellenze del territorio ebbene ieri la conf commercio ha voluto premiare gli imprenditori che del made in italy ovvero dei prodotti gastronomici di eccellenza fanno una iniziativa di promozione e sono quelli delle vongole i profumi il caccio cavallo pasta vini babà fino ai prodotto a chilometri zero l'ortofrutta per esempio di primo raccolto sono diversi appunto coloro che sono stati premiati dalla conf commercio nella sede del gnocco promo imprenditori lungimiranti e tutti coloro che hanno contribuito alla promozione di questo territorio insomma non ne beneficiano soltanto i produttori poi tutto il complesso del commercio del sistema produttivo che se ne avvantaggia e ieri è stato presentato anche è stata presentata anche la nuova edizione del international film festival direttore artistico fiorangelo pucci è una iniziativa questa che comincia a essere una delle più longeve che si svolgono nella città di fano le una il concorso concorso rassegna dei corti cinematografici ebbene ci sono diverse novità quest'anno in merito al fano film festival innanzitutto la location quest'anno non si svolge più la serata di premiazione con quelle poi le serate di di proiezione delle pellicole nella sala verdi bensì nel cinema masetti e sono in genere proiezioni pomeridiane inizieranno alle ore 17 alle ore 17 l'ingresso è libero quindi ci si può andare tranquillamente a vedere questi corti che sono giunti un po da tutto il mondo pensate il fano film festival ha raggiunto tantissimi paesi due sono stati duemila e film che sono pervenuti al concorso e dunque il programma ci dice che il concorso le proiezioni anzi si svolgeranno la prossima settimana la giornata di premiazione è quella di sabato prossimo quindi lo vedremo sabato prossimo nell'ultimo nel prossimo weekend e vediamo che sono pervenuti opere sono pervenute opere da 96 nazioni straniere russia compresa addirittura solo dalla spagna sono circa 200 e altri tanti sono stati realizzati nelle scuole e la sezione delle scuole ha detto fiorangelo pucci che ieri ha presentato alla sua iniziativa insieme al nuovo assessore alla cultura cora fattori al sindaco di fano massimo seri è una sezione molto importante perché rivitalizza quella che è l'attività didattica attraverso la cinepresa per i ragazzi quali aderiscono volentieri a questa forma di apprendimento in questi ultimi mesi il direttore artistico i suoi collaboratori hanno avuto veramente un bel da fare per scremare i 50 finalisti e sono diversi poi i film che verranno premiati tra questi c'è anche un cartone animato un po particolare ovvero lo mette in evidenza anche il titolo che appare oggi sul resto del carlino il film festival sfida il tabù del sesso è un cartone animato osè diciamo dire e verrà proiettato questo non il pomeriggio ma in serata anzi diciamo a notte a notte fonda un po un po tardi ecco così per eliminare alcuni spettatori che magari non è il caso che vedano questo film veniamo le altre notizie passiamo a cartoceto a processo due membri di un'azienda agricola perché hanno contraffatto l'olio dop di cartoceto ebbene hanno spacciato il loro olio come un olio dop e si sono risentiti alcuni alcuni supermercati l'olio in realtà era sì extravergine e di ottima qualità ma non era di cartoceto bensì proveniente da uliveti della zona di san lorenzo in campo e di san benedetto del tronto uno dei supermercati si è costituito parte civile chiedendo all'azienda fornitrice 100 mila euro di risalcimento per il danno di immagine insomma guai per due membri di un'azienda agricola e poi un altro risvolto all'iniziativa del resto del carlino che ha dato risalto alla richiesta di intitolare una via a corrado corrado mantoni il noto presentatore televisivo scomparso alcuni anni fa corrado aveva una ascendenza fanese e la città dice il carlino plaude all'idea ne parla oggi ancora su un altro articolo e il figlio di otello mantoni che era il cugino buono di corrado il daziere fratello di dante mantoni che abita ancora nella casa dove corrado veniva a fare le vacanze al mare al civico 154 di viale adriatico a fano ebbene una testimonianza che ricorda la simpatia del noto presentatore passiamo ora pergola dove nasce un'azienda particolare e ne dà notizia l'amministrazione comunale in modo particolare l'assessore Ciro Mariani Ciro Mariani lo vediamo qui in questa fotografia e è un'azienda che si occupa di tinte con prodotti che provengono dall'agricoltura l'agricoltura non fornisce soltanto generi alimentari ma fornisce anche generi che possono essere prodotti che possono essere utilizzati anche dall'industria in questo caso si parla di estrazione del colore fino ad arrivare al suo impiego in numerosi campi come per esempio il tessile e gli arredi ma anche nel settore della cosmesi e della farmaceutica tutto ha detto l'assessore è partito dalla considerazione che nel nostro comune ovvero nel comune di Pergola tra il XVI e il XVII secolo si svilupparono l'arte della tintoria del tessile e della lanaiola come testimonia ancora oggi la preziosa chiesa denominata di Santa Maria delle Tinte e l'omonimo quartiere purtroppo feriti dalla grave alluvione del 15 settembre scorso una bella iniziativa che testimonia insomma anche la volontà di rinascita della frazione ipogeo di piagge mostra del fotografo Umberto Nicola Nicoletti a sostegno dell'ILT della Lega contro i tumori e chi non ha visto l'ipogeo di piagge insomma vi consiglio di andarlo a vedere perché merita senz'altro una visita un ambiente molto suggestivo una archeologia sotterranea che merita di essere conosciuta per tutta la sua storia ma anche per la sua suggestione visiva. Ad Urbino tutti con il nastro rosa contro il tumore al seno avviata la campagna di prevenzione con il supporto del Rotary Club coinvolti anche i commercianti su iniziativa della Confcommercio. La Confcommercio di Urbino ha coinvolto circa 30 esercenti del centro che hanno allestito le proprie vetrine di un qualcosa che ha un colore rosa colore della prevenzione e poi vediamo come è stata rintracciata quella signora anziana ricercatrice di funghi che si era persa nei boschi di pianello. Ebbene la sua voce, le sue urla sono state intercettate dai ricercatori i quali hanno seguito un po' la direzione appunto dell'appello vocale sono riusciti a ritrovare la dispersa. Quelle urle in mezzo al bosco così abbiamo ritrovato la dispersa. Invece a Sant'Angelo in vado è ora di tartufo e ora di tartufo oggi e domani il tartufo di Sant'Angelo si accompagna ai motori rombanti del 44esimo motoraduno internazionale delle tartufo e questa è un'iniziativa complementare che darà ancora più appeal alla mostra del mercato delle tartufo e in questa occasione verrà dato il tartufo d'oro a Claudio Costa, un medico che ha fondato la clinica mobile per il moto mondiale, una clinica motorizzata che segue un po' tutti i campionati che vengono fatti appunto col moto mondiale per intervenire in caso di necessità quando qualcuno si fa male, insomma i centauri cadono e hanno bisogno di una prestazione immediata di pronto soccorso, quindi il tartufo d'oro a questo medico belemerito. Vediamo anche le pagine pesaresi del resto del Carlino, ancora vediamo gli effetti, ci sono due articoli molto interessanti, vediamo gli effetti di quello che ha causato l'alluvione del 15 settembre scorso. Ebbene abbiamo due pagine con due articoli veramente scritti molto bene, il primo è di Roberto Damiani, il secondo è di Amedeo Pisciolini. Ebbene cosa fa Roberto Damiani? Roberto Damiani fa un giro, non dico una passeggiata, dico un giro per Cantiano, incontra gli operatori, incontra i cittadini e questi parlano di quello che hanno passato, delle loro sensazioni, delle loro emozioni, del loro dolore, delle loro angosce che hanno provato nel momento dell'alluvione. Cantiano, disperazione e sguardi allucinati, la scossa del sindaco, arrivano i primi soldi e, care Grazia, viaggio nel paese che vuole ripartire. A giorni iniziamo a distribuire a chi ne ha bisogno i 350 mila euro che abbiamo raccolto. Ebbene questa è iniziativa importante, ma quello che è più importante sono le dichiarazioni appunto molto intime, molto personali che fanno appunto tutti gli abitanti, sono diversi che vengono intervistati in questo articolo per quanto riguarda quello che hanno passato. Veramente un articolo interessante. E anche questo di Amedeo Pisciolini. Mio marito urlava, salviamo i bambini. Il racconto della notte indimenticabile nelle parole di una mamma. Si tratta di Eleonora. Dalla finestra ho visto l'auto spazzata via dalla corrente. Insomma, la notte che ha cambiato Cantiano non sarà mai dimenticata, soprattutto dai suoi residenti. Eleonora Masci, coniugata a Fiorucci, madre di due bambini, a un mese di distanza, racconta come ha vissuto, come lei poi tutti gli altri cantianesi, quelle terribili ore. Un racconto da leggere senza interruzioni, con una mano sul cuore, quella mano che Cantiano ora chiede a tutti i cittadini e alle istituzioni per un aiuto. E qui mi fermo, il resto lo lascio a voi. Gas triplicato, la provincia va in bolletta e qui i giornali replicano ancora gli appelli del Presidente Paolini per quanto riguarda la situazione un po' disperata della provincia che non riesce a far quadrare i conti per la gestione delle scuole, ma anche degli uffici della provincia stessa. Il Presidente Paolini invoca un fronte comune con presidi e sindaci. Intanto i sindacati bocciano l'ipotesi DAD il sabato per risparmiare. Sì, era una delle proposte che erano state ventilate per ridurre gli orari scolastici. Insomma, non si lavora il sabato, si studia a casa, intanto si risparmia la luce nelle scuole e nelle scuole soprattutto, le scuole superiori. Però, insomma, i sindacati dicono no, ma anche i ragazzi di DAD non ne vogliono sapere. Insomma, l'esperienza della pandemia è abbastata, è avanzata. Mille firme per tutelare il Parco Miralfiore, è una iniziativa, una raccolta di firme già evidenziata nei giorni scorsi. Ebbene, comunque, sono mille quelle raccolte nell'ultima settimana dal gruppo che chiede a piano e comitato di gestione, un piano per la ristrutturazione del parco, la replica dell'assessore Belloni. E poi, per quanto riguarda invece i vigili del fuoco, si parla anche di una nuova caserma a Pesaro. Da tempo si parla di una nuova caserma a Fano, che è ferma per questioni burocratiche, e ora sorge la necessità anche di una nuova caserma a Pesaro. Gli interquartieri sarebbe la sede ideale. I sindacati dei vigili del fuoco hanno incontrato ieri il prefetto e hanno appunto parlato delle loro emergenze. Quello che stanno usando a Pesaro è un edificio vecchio, non è molto in sintonia con la viabilità e il rumore. PNRR, un'occasione da non perdere, ci sono soldi. Questa è un'occasione che non si proporrà probabilmente più, quindi occorre sfruttarla per realizzare una nuova caserma dei vigili del fuoco. Più uomini e sede nuove per Pesaro, Fano e Urbino. Questa è un po' la richiesta che è stata fatta al prefetto. E poi vediamo un altro articolo, sì, che riguarda la sanità. Marche Norde, troppe nomine allo scadere. Tutti i dubbi di Petrucci, che è il sindaco di Monbaroccio, uno dei sindaci che è stato più attento alla situazione di Marche Norde e ora interviene sui tanti nuovi incarichi dati a pochi mesi dalla nascita dell'azienda sanitaria territoriale, come se si volessero porre a riparo certi ruoli, certe posizioni prima che poi arrivi il cambiamento radicale. Abbiamo parlato del resto del Carlino, vediamo invece come apre il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo che l'apertura è dedicata anche qui come al Carlino alla situazione degli asili nido. Lista di attesa di 102 bimbi in due anni, domanda cresciuta del 30%. I numeri forniti dall'assessore Mascarin sull'interrogazione della Tarsi in programma quattro nuovi progetti per cercare di superare il disavanzo tra richieste e offerte dell'amministrazione comunale. Comunque Mascarin ha tenuto a precisare che il comune di Fano è uno dei sei comuni in tutta la regione Marche che gestisce direttamente gli asili nido. Mentre gli altri li danno ai privati, insomma a Fano abbiamo ancora una gestione pubblica ed è una gestione di un alto livello qualitativo. Questo lo riconoscono tutti, genitori, sindacati, personale, amministrazione di maggioranza, di opposizione, insomma Fano si educa in maniera corretta e in maniera produttiva. Puliamo il mondo coinvolti i bambini e ragazzi. Ieri nella scuola elementare Gentile è stata presentata questa iniziativa di Lega Ambiente che coinvolge diverse scuole elementari di Fano. Sono la Decio Raggi, la Luigi Rossi, la Filippo Montesi, Filippo Corridoni, la Francesco Gentile e poi anche le scuole medie come la Gandiglio e per quanto riguarda le scuole superiori quelle del Polo 3. Ragazzi e studenti che puliscono il territorio, che seguono un insegnamento di carattere ambientale molto molto partecipato e fanno da tramite, tra la loro consapevolezza e l'educazione dei loro genitori. Quindi anche un sussidio per quanto riguarda le famiglie. Gettare un rifiuto per terra ora si guarda con sospetto. Non è più come una volta quando dal finestrino delle auto si buttavano via le sigarette. E un altro articolo interessante è quello a firma di Andrea Amaduzzi questa mattina sul Corriere Adriatico. Multe 2 milioni in soli 8 mesi impennata con gli autovelox. Si è tornati ai valori pre-covid previste oltre altre tre videocamere a Rosciano, Fenile e Torrette. Non abbiamo tempo di leggere quest'articolo ma anche questo è molto interessante perché ci sono molti dati che fanno molto riflettere. Soprattutto uno che ha una consapevolezza di osservare i limiti di velocità riuscirà a scampare diverse multe e sono multe sostanziose. E dunque occorre fare di necessità virtù e osservare i 50 chilometri orari. Era l'ultima notizia. Ora vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7. Intanto vi auguro un buon weekend. A risentirci.